Ciao a tutti ragazzi qui c'è Dutz e ben ritornati sul mio canale Siamo ritornati su Battlefield 1 Perché oggi andiamo a giocare con il fucile a pompa su Deathmatch Deathmatch su Mottegrappa Dovete sapere che su questo gioco il fucile a pompa è davvero fortissimo Anche perché con la mira assistita basta puntare e sparare e lo uccide in due colpi Eccolo qua per esempio Questo qua ci ho messo tre colpi ad ucciderlo però è morto Essendo anche Deathmatch dobbiamo andarle a trovare perché qua si scovano da tutte le parti E non fatemi passare grazie Magari Dominio era molto più indicativo perché sapeva almeno dove spawnavano Ma su Deathmatch mi viene difficile almeno stiamo vincendo No 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 due granate mi hanno ucciso Diciamo che su Battlefield si schiera molto ma molto di meno di altri giochi No 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 non ci credo non è morto con un colpo di fucile qua in faccia L'unica cosa brutta del fucile a pompa su Battlefield è che se non lo prendi bene sei morto Adesso vado a prendere il flaniere me l'hanno fregato Adesso io vado a prendere quei cerchini e ci sono là sopra Guarda doppia Eccoli qua questi sono i bastardi che da mezz'ora mi sparano dalla sopra Eccoli qua guardate dove sono tutti Eccolo qua Ricarica 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 no 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 ce n'erano cinque di spalle e avevo finito le ricariche del fucile Poi ste granate sul fure ragazzi veramente Eccoli qua Lo vedete le doppie come vengono Subito subito poi col fucile a pompa Pum Pum Un ha ucciso Pum Pum Altro ucciso Ce l'ho di dietro 100% che è qua 100% che mi arriva No 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 sono al 4% di vita Con ste granate Dai esci che ti aspetto E l'altro E l'altro cosa volete fare tu e quell'altro Scusa Mi ha ucciso la maschera a gas Il fucile a pompa vero ho detto ragazzi è troppo forte su questa cosa Abbiamo perso che abbiamo perso Andiamo a giocare questo detto invece ragazzi siamo sulla mappa amiens se non mi sbaglio Qua il fucile a pompa diciamo che non è proprio il massimo Però Già la prima chi la troviamo è chi mi ha ucciso poi Il cecchino Iniziamo subito bene Non me ne era accorto che c'erano due peni nel cielo Questo qua cos'è Ma aspettate che ce n'è uno là che lo vedo da qua Bastardo La maschera a gas mi ha fatto Io vado di qua E ti prendo Ma ti prendo da tutte le parti Sì ma se qua non me ne vado Qua ce n'è un altro Eccolo qua Eccolo qua L'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso Ce n'è un altro là sopra Andiamo ad ammazzare Ok morte 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 morto Fatemi riprendere No no chi è che mi ha sparato Poi ragazzi con ste cavolo di granate affumicanti Che mi affumicano la mozzarella Che ci fanno Eccolo qua Oh doppia 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 Chi che doppia L'ho ucciso l'ho ucciso Via 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 C'è un altro se non mi sbaglio Eccolo qua l'ho preso un altro Mamma mia Allora se non mi sbaglio Se noi facciamo il giro d'acqua Dovremmo andarlo a prendere da dietro Oh quanti ce ne sono Ok vi lascio una granata Vediamo se va bene Oh granata presa Che culo No e questo dov'era Questo era mimetizzato col pavimento Come t'ho visto E' impossibile che ogni volta devo fare due kill e morire Due kill e morire L'unica cosa schifosa del letto è che ci sono così tanti cecchini che tu non sai neanche dove guardarti Tipo questo colpo Oddio Se non mi sbaglio da queste parti dovrebbero non essercene un poco Fatti doppia doppia Eccola qua la doppia Eccolo qua l'ho preso Sono il primo della lobby con 11.4 col fucile a pompa Eccolo qua Devo arrivare io a fare sempre doppie No ok Andiamo andiamo via Andiamo via Da queste parti non vedo nessuno Eccolo qua Eccolo qua l'ho preso L'ho preso Tre colpi Tre colpi L'ho preso Se non mi sbaglio da qua sopra l'hanno ucciso Eccolo qua Ma guardate No 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 Là c'è la granata No 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 Eh non ci ho fatto tutto fare niente Almeno l'ho preso con la granata Non è manco morto con la granata Dai che possiamo vincere ragazzi Dai 43.42 Veramente gioca da sta partita Vai Ok Eh non muore Non muore Ma come non muore questo Quello là era impossibile da uccidere Perché c'è la corazza che gli dà il 100% di resistenza in più Però le stragi col fucile a pompa non ce le caccia nessuno Eccolo qua sopra L'ho visto Uno è andato Eccolo qua sopra Che era qua sopra Nessuno l'ha visto No Ancora È impossibile uccidere il corazzato È impossibile Da 56.62 Stiamo vincendo ragazzi Adesso stiamo perdendo Ecco Questo è morto Fammi passare Fammi passare 84.92 ragazzi Era veramente vinta sta partita Ok Se non mi sbaglio Ho qua sopra Non è Se andiamo all'attacco Andiamo all'attacco Ragazzi Se no qua Se non andiamo all'attacco 8 di vita 8 di vita Via Mamma mia No Ma poi queste non l'ho sentito da nessuna parte Perché non lo sentivo neanche Gridare nelle cuffie Abbiamo perso Come sempre Io sono arrivato primo Con 19.10 Col fucile a pompa Ditemi voi Se io in questa partita Mi devo fare in 4 E poi perdere Battle pack per noi Abbiamo ricevuto un battle pack Fammolo aprire Perché qua sicuramente Mi diceva che merda Speriamo che mi esca Qualche cosa di dorato Mamma mia Questa mi piace Questa mi piace Editto reale Come si può avere Va bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare un mi piace Come dice l'omino qui sotto Come sempre Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se non vi siete iscritti Qui dal vostro Ci vedo E' tutto Bella No 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 No